Alessio Giannone è un comico barese emergente che spopola sul web e che raccoglie sempre più consensi negli spettacoli dal vivo. La sua creatività, la sua genialità è consistita soprattutto nel creare dal nulla un personaggio pinuccio che grazie all'ausilio di un mezzo banale di comunicazione come appunto è il telefono gli consente di poter intervenire nei fatti della cronaca e soprattutto di interloquire con i personaggi protagonisti. Alessio come e quando è nato questo personaggio pinuccio con un sottotitolo Sono? Sono perché ogni volta che faccio una telefonata mi identifico così un po' alla Montalbano anche mi hanno detto. È nato circa tre anni fa quando scoprì le intercettazioni di Tarantini con Berlusconi. Mi piaceva che questo personaggio barese chiamasse il presidente del consiglio per organizzare poi insomma quel che sappiamo le cene eleganti e quindi adesso lo faccio pure io e quindi passai, sperimentai il giorno del compleanno proprio di Berlusconi una telefonata e da lì vi dico andò bene, cominciai, ho sempre fatto Satira però grazie a questo personaggio ho potuto farla anche su temi nazionali e non solo perché poi ho chiamato pure Obama, insomma amicizie internazionali. Senti la Satira è un po' l'elemento caratterizzante del personaggio, non è facile fare Satira in Italia perché è anche una sintesi di concetto, di comunicazione, nello sviscerare molto spesso i fatti da un altro punto di vista. Quanto è difficile? È difficile per due motivi. Uno è difficile perché essendo un personaggio del web e quindi sta sul web o in teatro, insomma la gente facilmente minaccia querele e non è difficile, è difficile anche perché la Satira presume un pubblico che più o meno un paio di giornali al giorno li legge. Se si parla del grande fratello sono tutti, insomma tutti sanno che cos'è, invece parlare del nuovo decreto, la buona scuola presume comunque un pubblico almeno curioso perché molti magari non lo sanno ma grazie alla battuta vanno a vedere che cosa sta succedendo. È difficile perché oggi in Italia per arrivare a fare Satira a grandi livelli ti devi schierare. C'è un personaggio che ti interessa particolarmente nell'ambito della Satira a livello nazionale? Beh, Crozza mi piace, anche se insomma come modello è diverso dal mio perché lui tende anche a limitazione. Invece la Satira più o meno dovrebbe essere una voce terza e non necessariamente deve far ridere la Satira. Però diciamo lui è un grande professionista da parecchi anni. Senti, i personaggi nazionali ma anche i personaggi locali, ti è capitato qualche rimprovero dopo una tua telefonata da qualcuno? Rimproveri soprattutto dei personaggi locali, quindi quei piccoli, quando vado a fare gli spettacoli, consigli comunali. Quei nazionali al massimo mi bloccano sui social network, tranne insomma il caso di Michele Emiliano quando fece la telefonata delle cozze e mi disse che gli era piaciuta. E poi so che a Salvini non sto particolarmente simpatico, questa voce mi è arrivata. E adesso le cose per la Lega non è che siano tanto tranquille? Adesso no, però si sono aperti pure i comitati della Lega al Sud. Cioè a Bari c'è il comitato noi con Salvini, questo fa vedere il livello di memoria dell'italiano medio. Senti parliamo un pochettino di università, il 18 sarai ospite del Politecnico qui a Bari e ti ripeterai come tua presenza il 25 a Taranto, nelle aule universitari un palcoscenico diverso dal tradizionale, un'aula universitaria e un pubblico soprattutto composto da studenti delle scuole superiori. Hai un'idea, un palinsesto, insomma un modello da proporre per lo spettacolo del prossimo 18? Vabbè sicuramente darò dei consigli agli studenti su come muoversi e come vivere meglio l'università e la città, perché poi la città, quello che offre, quello che non offre, gli hobby come rimorchiare uomini o donne in base insomma ai gusti sessuali, come rapportarsi quando si fa un esame universitario perché insomma ne abbiamo visti di tutti i colori, almeno io quando ho fatto l'università ne ho visti di tutti i colori e poi soprattutto quanto uno studente universitario deve essere integrato nel contesto cittadino anche politico e sociale perché loro sono la speranza, noi ormai diciamo tu sei più giovane di me però abbiamo dato. Senti il 28 tra l'altro ricordiamolo sarei anche impegnato al teatro forma con il tuo spettacolo un'ultima cosa, gli studenti, i docenti, il rettore, una telefonata? Il rettore sarà lì quindi glielo chiedo direttamente se mi fa fare il ricercatore e invece poi chiamerò sicuramente il ministro e poi vediamo Renzi ne combinerà sicuramente qualcun'altra e poi molto probabilmente devo fare la telefonata a Berlusconi cioè scusate Berlusconi è stato assolto, voi tutti l'avete criticato Adesso torna anche in campo, ha fermato Adesso torna pure in campo, Raffaella carrà la domenica in televisione, Albano e Romina candano insieme e voi che volete fare gli esperimenti a creare le cose nuove qua siamo ritorno a Italia nel 60 Grazie a tutti